Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero. Oggi voglio parlarti di una particolare varietà di mele campane, le mele annorche, perché su questo tipo di mele sono stati condotti diversi studi che ne hanno dimostrato importanti proprietà. Innanzitutto, grazie all'elevato contenuto di fibre, riesce proprio ad aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo, di conseguenza si riduce anche il rischio cardiovascolare. Contiene moltissimi minerali, polifenoli, sostanze di azione antiossidante, in misura anche quadrupla rispetto ad altre varietà di mele. Favorisce la crescita dei capelli e questo è stato dimostrato da uno studio condotto dall'Università di Napoli, Federico II, che è proprio dimostrato l'azione importante di alcune sostanze contenute in queste mele che favoriscono la crescita molto più rapida dei capelli nei soggetti sottoposti a chemioterapia. La buccia, molto ricca di cellulosa, di conseguenza va a favorire la digestione, consente anche un graduale assorbimento degli zuccheri, di conseguenza è la varietà di mele più adatta a chi soffre di diabete. Cruda è un'azione astringente, invece cotta è un'azione lassativa, quindi puoi scegliere come mangiarla in base alle tue esigenze. E contiene acido salico, che è un'azione sbiancante per i denti. Quindi ti consiglio di provare questa varietà di mele e ricorda che alla farmacia di Nardos accuore il tuo benessere.